E' un nuovo termine in voga nello showbiz, perennials, ampli ai confini e include tutti. Basta anagrafe, a tutte le tassi può essere belli, fascinosi, curiosi o desiderati. Una dimostrazione si è ben vista a Cannes. Le terne giovani o perennials sono state le più acclamate, le più fotografate e applaudite, da Sharon Stone ad Amanda Lear a Julia Roberts. A 64 anni Sharon Stone ha incantato la Croisette, con un fascino e una classe incredibili, sempre raggiante, sembra ancora una ragazza. La prova vivente che fascino e bellezza possono tranquillamente essere immuni al passare del tempo. La diva è oggi un'icona planetaria e soprattutto una donna che non nasconde gli anni e neanche qualche ruga, ma abbaglia comunque con la sua bellezza. Fascino senza tempo anche per Julia Roberts. La sua presenza ha fatto parlare tutte le riviste di fashion del mondo, un inno alla giovinezza. A 54 anni più che a Cannes, sembrava ancora sul set di Pretty Woman. E che dire di Amanda Lear? Cantante, attrice, pittrice, icona, senza età. Nessuno conosce esattamente la sua data di nascita. Si sa solo che è bella, simpatica e che sprizza energia e voglia di vivere da tutti i pori. Gioca in casa Carla Bruni, fisico e portamento statuario. L'ex premier dame di Francia non sbaglia un colpo. E allora ripetiamolo fino alla nausea. La bellezza, e non solo quella fisica, non ha età.